Una serata all'insegna dello sport, lunedì 23 aprile per San Fior. Presso la sala polifunzionale del comune si è tenuto Educa Sport, manifestazione dedicata alla consegna delle certificazioni di qualità alle società sportive che hanno aderito a questo progetto. Coinvolti ben 12 comuni del Coneglianese, nonché molti giovani. La serata è iniziata con l'introduzione del sindaco del comune di San Fior Martorell e dell'assessore allo sport e alle attività giovanili Tonetto. L'importanza di questa serata per il comune di San Fior è per lo sport? Diciamo che è una cosa unica perché a San Fior una serata così non è mai stata. Coinvolgere 12 amministrazioni in una serata finale dove questa sera verranno date degli attestati alle società sportive, questo è sport, è il vero sport, il sport che fa bene, il sport che aiuta la salute, il sport dei nostri giovani e dei nostri ragazzi. Come nasce il progetto Educa Sport? Il progetto Educa Sport parte da un'operativa di comunità che si chiama Tauma assieme a ULS7, assieme a Banca della Marca, assieme al CONI e assieme ai 12 comuni dove in quota parte tutti partecipano per una quota di questo progetto e tutte le società sportive di relativi comuni si fanno il loro percorso con i responsabili del settore CONI. Presente tra gli ospiti Bruno Pizzul, storica voce legata al mondo del calcio italiano, l'ingegner Giovanni Ottoni, presidente provinciale del CONI, Marisa Durante, direttore dei servizi sociali ULS7. È la prima volta che viene fatto un accordo tra le varie componenti che hanno a che fare con la politica sportiva nel territorio per sottolineare più l'aspetto culturale e sociale che non l'aspetto agonistico dello sport. Il progetto è nato attraverso i comuni che fanno capo all'ULS7, zona di Conegliano. C'è stata una serie di incontri con la società sportiva del territorio. È nato come un progetto volto a creare un miglior modo di affrontare lo sport o meglio di affrontare la vita da parte dei giovani del territorio attraverso una formazione delle componenti che hanno a che fare con questo problema. Vale a dire società sportive da una parte, genitori dall'altra. Questa serata è la conclusione di un percorso che abbiamo costruito assieme alle società sportive e alle amministrazioni comunali in primis e alla banca della marca per educare allo sport e alle relazioni in modo adeguato le società sportive. È una serata importante perché diamo un certificato di qualità alle società sportive che hanno collaborato nel nostro progetto. A noi interessa molto che lo sport sia uno strumento di educazione sia per i giovani che per gli adulti e quindi abbiamo collaborato in questo percorso fornendo dei nostri formatori proprio perché riteniamo importante soprattutto in questo momento offrire ai giovani, ai ragazzi ma anche agli adulti delle occasioni formative non solo sul piano agonistico ma anche sul piano umano e relazionale. Parte in quest'area territoriale che è sempre stata molto sensibile alle politiche giovanili che è stata molto sensibili al mettere in rete le diverse istituzioni noi partiamo da quest'area e speriamo di diffondere queste pratiche che sono importanti e positive anche in altre aree del nostro territorio. A sostegno della serata anche Banca della Marca rappresentata dal vice direttore Mariano. È una serata importantissima soprattutto per il nostro territorio per il quale la banca ha sempre fatto dei grandi investimenti e che continuerà a fare anche in questo momento non così semplice per il sistema. L'importanza di trasmettere nei giovani soprattutto il valore dello sport purtroppo vediamo in questi giorni esempi che allontanano questo spirito. Sì decisamente purtroppo gli esempi non sono eclatanti ma non solo nel mondo dello sport direi anche in quasi tutte le sfaccettature della nostra società in questo momento. Per i ragazzi è fondamentale imparare la lealtà, imparare quali sono i valori perché poi sono dei principi che anche nella vita serviranno molto.